questo livello ma questo quale livello è? buongiorno amici noi siamo tornati in questo nuovo video di sempre, ah questo qua facciamo oggi giochiamo su? io metri lascio a livello 2 perchè il livello 1 l'abbiamo superato mi devo saltare qui, non mi devo ricordare tutte le cose, non mi ricordo niente Gesù anche quando finisce, dopo la navi ce l'ha chissata un pezzo difficile e poi vinci qua dovevo saltare cappero a quanto siamo arrivati? non lo so a poco fratello ma siamo lontanissimi eeeh le patate eeeh forse scherziamo eeeh le patate, le cipolle, i fagioli e l'aglio eeeh questo è lo stesso punto di primo eeeh infatti perchè è difficile ma non sono abituato a giocare con l'altro la mi ricordo con gli altri la qua non mi ricordo niente eeeh e meno male che l'altra volta ti ho fatto abituare in modo che avrei capito niente l'altra volta no qua non devo saltare cappero cappero è troppo difficile gli annunci cappero gli annunci cappero gli annunci cappero gli annunci cappero ma scusami perchè stanno gli annunci? perchè non li abbiamo messo a disturbare? abbiamo sbagliato non l'abbiamo messo a aereo vabbè mentine un attimo non c'è niente da preoccuparsi lo metteremo delta aereo però non so cosa è successo ecco qui riprova? riprova the Considering Babbè bemmo no la s'ho sai mamma cantare? léndurre pa mo ma cavity ma miuelleno di pequil melleno am Games è Kiss stai cadendo, posso perché metti stai a mano su quell'alto? ehi patate andiamo a giocare il tuo crush talmente le volte che ho scelto l'altra ma com'è? sempre non ho visto dove sono mortone, vedrò vedrò ehi madonna sai da 2 minuti e 57 deve ancora finire ma che finire? non ce la faremo neanche in 10 minuti 2 minuti no 20 20 no si 20 minuti non è tutto dovrà andare fino mannaggia ma questo qua non c'è il fatto che non ci sta ma qua non si mette una data un po' più facile facciamo una data difficile non mi freddo, non si mette la luce a un petonino perché mi sono andato con la bocca e te la metto negli occhi così di più hai fatto sbagliare, hai visto? no mi freddo che al secondo è no no è al secondo? no o al te non l'ho visto dai lì dove si salta è il secondo ok la canta è un po' più ahahahhah adesso ho 19 volte ho 18 ho 18 ho 18 un'altra volta qui ma che cappero è proprio impossibile ma se ci abbiamo messo un anno per fare il primo quadro figura di secondo l'ultimo non lo guardo perché mannaggia addirittura al primo estacolo dell'ultimo livello allora tu non mi bullizzare madonna io non ho mai bullizzato nessuno in vita mia perché bullizzare questo salmo spegni la doccia e mi dai fastidio spegni la doccia e mi dai fastidio e non vedo niente ma non te l'ho puntata negli occhi da fastidio stesso mi fa girare gli occhi spegni la doccia e il cane ma che possibilità ma per chi è la pubblicità abbiamo messo aereo abbiamo messo quello e poi ti sei bloccato ok ehi ho giusto un metro più facile non c'è la possibilità di scegliere un metro più facile ma più lento no no e no questo è troppo facile troppo facile quello è impossibile questo bravo bravo nooo io ho sesto punto io ho sesto punto del quadro impossibile il secondo punto del quadro impossibile il primo si fa e la spina e il cubo è un po' semplice ma va fammi eeeh 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 mi da fastidio se l'accendi mi stai facendo già la vista ma che scortuna quando la spingo perdi eeeh perdi mi sto scocciando mi sto scocciando ma perché perché perdo sempre capito che non siamo eeeh ma capito che non siamo neanche a un decimo di quello che dobbiamo fare ma quando lo finiremo mai sto livello comunque io a 10 minuti no io a 10 minuti lo fermo a qualsiasi punto sono arrivato no 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 non mi importa niente a mezz'ora lo fermi mi fa distrarre ah che mi sbaglio sempre qui sempre a quel punto la perdo mannaggia no non l'ho mai superato quel punto lì eeeh mannaggia giro di avuti dove l'ho perso mai, tipo questo oppure il primo qua è sempre l'ho perso mai qua qualche volta si qua mai qua si qua qualche volta è quasi si mi stai stressando mi stai stressando? si mi stai stressando e guarda insomma noi dobbiamo ancora sicurare il quadro in livello ma non ce la faremo mai forse non è vero ce la facciamo venti anni siamo troppo dietro siamo troppo lontani dal quadraguardo non è che manca poco vedi il quadro viene dopo la ma basta che vedi la striscia la sopra come si colora vedi che non ci sta mai la striscia la sopra noi ancora abbiamo anche superato il primo pezzo secondo me si infatti vedi ancora abbiamo superato il primo pezzo se non hai capito ehi ma questo mi devo ricordare il sparacola la raga mai bere quando il gioco gioca il dash perchè trovo perchè sennò ti viene da ridere butti tutto e la mamma la bebi città mannaggia ma ha fa così ti fa così la mamma ti fa così la mamma oppure il bilan o eh insomma queste cose ti fa a che cavolo però mannaggia questi due qua proprio infame questi due sono proprio due infamoni quella non sarei morto quasi mai perché uno è facile assaltare due è difficile tre è proprio impossibile no devo mantenere il primo avuto la lampada mi dà fastidio la torcia si dice la lampada l'amico ha preso una lampada no una torcia ho preso io nella mia fantasia tengo inventato un gioco no l'altra volta lì tu mi fai di stare che parli troppo comunque nel primo sono nella camera dove dobbiamo andare sotto la porta di sopra dietro il letto dietro la tenda e nell'armadio e sotto al letto poi nel secondo le stesse cose del primo tranne la porta e i due armadi e nel terzo sono nel negozio che ho fatto proprio stamattina queste cose le faccio di notte così così tipo devo tipo dalle 9 e mezzo questa volta buona sorella si no tanto solo che te la vai eh ma è bene con me due ragioni si lascia per l'occhio no 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 quello non avevo perso mai però eh si c'è sempre la prima volta si ma non siamo a 30 minuti lo facciamo e mezz'ora io voglio superare i punti dove non l'hai superato e basta no 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 il mio obiettivo è quello di superare quel punto no sempre qua però comunque dopo non concludiamo giochiamo ancora 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 fin quando non ce la fai insomma non siamo soli stasera lo sai ci sono i nonni dobbiamo tornare di là siamo almeno a 20 minuti vorrei almeno superare quel punto guarda guarda un attimo a più di quello il mio record è superare quel punto comunque superarlo sei proprio allo stesso punto? no ancora più ehi vai a fare un caffio dito vai a fare un caffio dito ancora? ancora? esatto esatto salto quando muoci si madonna eh 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 il problema è che non è che perdo sempre a quel punto là eh 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 non mi stai bullizzando bullizzare vuol dire io lo dico sempre io lo dico sempre io ho detto stavolta non mi stai spessando lo dico sempre annaccia la morte sto perdendo sempre a quel punto la terza volta di seguito devo ricordare quel punto lì 3, 4 qua faccio così 6, 5 minuti cerca di gestirli con i fiocchi 6, 5 minuti e mancano no qua non dovevo saltare che cappero z che ca c a se non fai silenzio mi fai distrarre ok non so se ti mangioco bene no qua non dovevo saltare mi devo ricordare dopo quel salto là di non saltare allora ok e se lo fai troppo presto aspetta mi devo ricordare quel punto là non mi dai a parlare mi devo ricordare quel punto dopo quel salto non devo saltare e mi stavo ricordando qual è il punto non mi ricordo manco qual è il punto io non lo conosco io non lo conosco io non lo conosco gio metti gas io non lo conosco gio metti gas io non lo conosco gio metti gas questa è la volta buona fratello segnatelo vabbè vabbè ma se non si può fare lì o vai la voluzione si è la volta buona vediamo no era quello dopo che non dovevo saltare cappero e hai verso il passito allora devo fare due salti e il terzo no mi devo ricordare due salti e il terzo no non mi distrago due salti e il terzo no dopo di là due salti e il terzo no due salti e il terzo no dopo di là arrivo là ah non era qui la mamma all'orecchio sinistro e l'orecchio destro contro l'unetto perché ho sentito lei è buona segnale l'orecchio destro mannaggia ehi guardate quel che infanno guardate vedi che è uscito continuamente sta facendo pensa se mo stavo superando quel punto no ma ti rendi conto se tu dovevi saltare l'ultimo spino usciva quell'avviso eh ma tu ti rendi conto che mi è bloccava e mi faceva giocare ma via io io lanciavo la torre di menaia che stava con il calazzo che si chiudeva quello ma non si scherzando ma do è perché ti fa un po' potrebbe andare più piano per questo gioco eh ma hai capito che è questa quale c'è morte 94 95 sempre madonna però ti confondi si quando esce la musica diversa devi saltare ricordati dopo quelle c'è sto a 96 volte 97 ho perso 97 volte è 98 no non vi dovrei derivare al 100 99 non vi dovrei derivare al 100 è 96 come il nostro canale è sempre 0,6 è come non ci si sveglia quindi sta la forza ciao lo sveglia nooo era qua che non si doveva saltare cappero tempo metti 100 madonna ma il mio obiettivo è superare quel punto una volta superato quel punto posso anche perdere e fare il saluto devo superare quel punto secondo me faremo guarda giusto giusto quando arriviamo a 20 minuti perché ho superato quel punto lì perché noi facciamo sempre così a 20 minuti facciamo sempre il record mondiale nooo allora dopo quel punto due salti sì e uno no allora a me non ce la fai dopo quel punto quanti minuti siamo? a 19 a 19.57 allora provo l'ultima volta dai se non ce la faccio la prossima volta rigiochiamo se non ce la faccio rigiochiamo la prossima volta non c'è un problema ma sempre qua quello corto devo risaltare allora il terzo no due sì e il terzo no fammi ricordare non mi ricordo il punto qual è perché nel quello dove devi saltarti butti giù e nel quello dove non devi saltare nel quello dove devi saltarti butti giù allora due salti sì e uno no fammi ricordare due salti sì e uno no due salti sì e uno no uno due salti sì e uno no uno due salti sì e uno no due salti sì e uno no uno due e no uno due e no è quasi nooo 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 maledizione ultima volta e basta ultima volta e basta no ultima volta e basta ultima volta e basta devi superare quello no sì mamma mi l'ha già detto vai vai una cilera questa è questa è un'ultima volta ce li provi ragazzi io vi comincio a salutare se il video vi è piaciuto ho detto che provi si io ho cominciato a salutare se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale sempre al 96 metri di super like e vediamo il prossimo video ciao papi grazie a me provo l'ultima volta si provo si io ci quando faccio il passo videggiato a legno eh però io ho premuto cappero ultima volta solo l'ultima no no l'ultima volta eh perché cosa sa che una frana un po' però l'avevo premuto però non è giusto perché l'avevo premuto non è giusto e questo per questa lega è eh ultimo solo l'ultima però solo l'ultima però giro che è l'ultima ma io già la sosta ah si poi si ci vedo come io bam ciao a tutti ciao ciao alla prossima ciao